la faccia come la faccia ma è un pesce o una staffa? oh, guarda, guarda guarda, guarda, guarda 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 ti è spezzata la cosa? nooo si è arrivata? no ma non è andata via? ora 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 ma come è furato? vale ancora no 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 non stai aiutando ti stanno aiutando in trepe un pesciolino guarda che stai guarda che stai guarda lui guarda 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 grazie Marcio uuuu bello ma bravo, bravo Marcio, fatti la foto vicino al pezio, ma vai vai Marcio, bravo, un applauso a Marcio io ripreso tutto il tuo lavoro, hai una carriera davanti che pesce è? Luca c'è questa? Luca… Dav… è morto già Grazie a tutti.